Un doppio anniversario che viene festeggiato in Puglia sia a Bari che a Taranto. I 70 anni da parte del Masci, il movimento adulti scout cattolici italiani e dei più giovani a Gesci che invece compiono 50 anni. Come detto Bari e Taranto sono le protagoniste. Nel capoluogo pugliese appuntamento il 3 e 5 maggio, il 3 con un convegno e il 5 con la mostra proprio per i 70 anni del Masci. A Taranto invece l'incontro ci sarà alle ore 19 nella giornata di venerdì 3 maggio presso la sala della parrocchia San Francesco de Geronimo in via Basento numero 3. L'incontro è su fratelli tutti, ogni uomo è mio fratello, ogni donna è mia sorella. Il giorno successivo in piazza Carmine o meglio piazza Giovanni XXIII alle 10.30 all'inaugurazione della mostra per il 70 anni del Masci. Nel corso della giornata, laboratori aperti alla cittadinanza, al Masci e alla Gesci su cyberbullismo, acqua e vita, legalità la figura di Don Peppe Diana, ma anche le visite guidate alla cattedrale di San Cataldo, un percorso di avvicinamento verso la festa patronale di Taranto in programma a mare l'8 e via terra il 10 di maggio. La giornata si conclude alle ore 18.30 con la Santa Messa di ringraziamento proprio nella chiesa del Carmine. Sono tre i gruppi Masci che vengono impiegati per la festa del 3 e del 4 maggio a Taranto. Gli obiettivi sono molteplici e non riguardano solo la comunità di Taranto ma anche la comunità estera. Infatti ci sarà il primo dono di una cula termica al centro di prima accoglienza e soccorso di Lampedusa, simbolo dell'amore per la vita che rinasce, la costruzione di una falenameria nautica in Zambia, simbolo del lavoro come dignità e pace e la piantumazione di un bosco ad argenta in Romagna, luogo in cui è stato ucciso Don Minzoni.